E' stato presentato questa mattina nella sala Paolo Borsellino della sede di Piazza Matteotti l'organismo di garanzia e contrasto al fenomeno della corruzione della città metropolitana di Napoli, istituito dal sindaco Luigi De Magistris per supportare sul piano tecnico il responsabile anticorruzione e trasparenza, il segretario generale Antonio Meola e gli organi politici nella individuazione delle strategie anticorruzione e nella revisione dei regolamenti dell'ente. Da quando mi sono insediato una delle priorità è stata la lotta alla corruzione e alla mafia. Farlo in modo concreto, in prima linea, con atti amministrativi, quindi già col segretario generale si sono prese tante decisioni sulle gare, sugli appalti, sulle varianti. Oggi un ulteriore passo in avanti, l'organismo, tre altissimi magistrati che adesso sono in pensione, che lo fanno a titolo gratuito, per spirito di servizio e per passione civile. Sono il presidente Luigi Giampaolino, già presidente della Corte dei Conti, il presidente Carlo Alemi, già presidente del Tribunale di Napoli, il presidente Omer Ambroggi, già presidente della Corte Assisi. Magistrati con grandissima esperienza sul tema della corruzione e delle mafie, ma Napoli vuole essere soprattutto in prima linea come città antimafia e anticorruzione. Il segretario Meola ha illustrato nel suo intervento le direttive ricevute dal sindaco per lo svolgimento della sua funzione di responsabile anticorruzione, dare concreta attuazione ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza, migliorare la qualità degli investimenti e dei servizi ai cittadini, valorizzare le risorse umane nell'ambito di un sistema di controlli preventivi di nitinere. Giampaolino ha sottolineato invece la duplice natura dell'attività dell'organismo, filiare e di monitoraggio rispetto alla piena attuazione del piano anticorruzione di cui la città metropolitana si è dotata, mentre Alemi ha evidenziato che la mancanza di controlli ha finora consentito il dilagare della corruzione nella pubblica amministrazione. Il fenomeno di legalità diffusa a Napoli è invece per Ambroggi quello più difficile da combattere, perché confonderebbe il limite tra ciò che è illecito e ciò che non lo è. Il compito dell'organismo è quindi quello di fare luce su questo confine. Alla presentazione hanno partecipato i consiglieri metropolitani Carmine Attanasio, Ilpilio Capasso, Paolo Avitabile, Marco Mansueto e il vice sindaco Elena Coccia. Dal lanci come sindaco del comune di Napoli per la legalità e la sicurezza, oggi siamo un avamposto anche nella città metropolitana per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione in modo preventivo, perché la nostra sfida è prevenire, non arrivare dopo, perché dopo si è già perso in qualche modo. Noi però dobbiamo costruire una casa di vetro, da esempio in cui si deve sapere quali sono le procedure, le gare devono avere una evidenza anche pubblica sui tempi, stiamo prevedendo una serie di controlli ancora più forti sulle varianti, sul cronoprogramma, sulle modalità e poi l'obiettivo è sempre quello di una riduzione della burocrazia e del formalismo, poche regole ma certe, quando ci sta troppa confusione, troppe norme, troppa burocrazia, troppi passaggi formali, sannita anche la piccola illegalità, non solo il grande fenomeno corruttivo, quindi un lavoro anche di semplificazione e di coerenza.